Dottor Levinger, come si può definire tecnicamente un genocidio? Il termine genocidio è stato coniato da Rafael Lemkin, un giurista polacco, che lo definisce il tentativo di distruggere un gruppo etnico, una distruzione fisica che implica il tentativo di deprivarlo dei mezzi di sostentamento. Approvata dalle Nazioni Unite dopo la Seconda Guerra Mondiale, la definizione considerata oggigiorno legale di genocidio essenzialmente segue le linee guida di Lemkin. Qual è il modo migliore per noi giornalisti di raccontare un genocidio? La cosa più importante è che non si può fermare un genocidio aspettando finché non si sia compiuto. La Convenzione delle Nazioni Unite non serve soltanto a riconoscere quando si tratta di un genocidio, ma anche a prevenirlo. Noi dobbiamo agire in modo efficace prima che si verifichi una tale eventualità.